Esplode la gioia del popolo bianco-verde, poco avvezzo alle sconfitte e quindi sofferente dal 2023. Con questa vittoria ottenuta con grande caparbietà e come ha detto Martino Gianni, in sede di propiziatore, curando i dettagli, il quartiere rialza l'asticella e fa vedere a tutti di che materia sono fatti i sogni. No, no, ma noi non si cercava le ragioni, si cercava solo la vittoria, poi si è cercato di mettere i ragazzi nella condizione migliore, la fortuna ci ha voluto premiare perché comunque un tre con una penalità nel tempo ci ha fatto andare al pozzo con una serenità mentalmente diversa. La giostra si aveva combattuta, dove alla fine i dettagli hanno fatto la differenza, ci abbiamo messo tante motivazioni dopo le due brutte figure che abbiamo fatto, fra settembre e giugno. I giostatori hanno creduto in questo cambio di cavallo e la dedico a loro perché dal giorno dopo la giostra ci hanno creduto fin dall'inizio. Le prime carri diere sono state impegnative, potevamo chiuderla, non l'abbiamo fatto, però dopo c'è arrivata l'opportunità di spareggio con un tiro facile, quindi è andata bene.